Cassa Integrazione e Mobilità in deroga al centro della discussione del Consiglio regionale tornato a riunirsi in mattinata. Due le interrogazioni presentate all'assessore regionale al lavoro Petraroia, rispettivamente dal Movimento 5 Stelle e dall'opposizione. CGL e Will hanno proclamato lo sciopero generale per il 12 dicembre ad illustrare le motivazioni e le modalità della mobilitazione e rispettivi segretari regionali del Fattore e Boccardo. Medaglia d'oro per il team Molisano-Vizzarri che con un menù d'eccezione ha meritatamente vinto il concorso culinario a squadra e svoltosi a Catania, una vetrina importante per il team e per l'intera regione. In casa Campobasso brucia ancora tanto la sconfitta contro il Fano, Mister Farina fa il mia colpa e chiede scusa a tifosi e società. In promozione invece il Montenero, dopo la vittoria sul Ripa Limosani, crede nella possibilità di tornare in eccellenza. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete appena sentito dai nostri titoli, Cassa, integrazione e mobilità in deroga al centro della discussione del Consiglio regionale. Due le interrogazioni presentate all'assessore regionale al lavoro rispettivamente dal Movimento 5 Stelle e dall'opposizione. La regione ha ottemperato a tutti gli obblighi il commento di Petraroia. Sentiamo. Una doppia interrogazione sulla Cassa integrazione e la mobilità in deroga per l'anno 2014, indirizzata all'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia, da parte del Movimento 5 Stelle e dei consiglieri di opposizione. Anche alla luce dell'incontro tra la regione Molise, il Ministero del Lavoro e la direzione nazionale IMSS, avvenuto il 27 novembre scorso. Noi volevamo capire che cosa fosse realmente successo perché in caso si individuano responsabilità politica o amministrativa. La risposta è stata di fatto evasiva. C'è stato tutto un discernimento sulla normativa, su quanto è stata pronta la regione Molise e che quindi non arrivano i soldi ai lavoratori perché manca un ultimo atto formale del Ministero. E questo non riusciamo a capire perché. Cioè perché il Ministero si ferma a un certo punto. E qua non c'entra la politica a cambiare l'assessore o meno. Qua dobbiamo dare delle risposte alla gente che sta aspettando delle risorse, dei soldi, per poter passare anche questo periodo di Natale in serenità. Il consigliere di opposizione, Angelina Fusco Perrella, ha chiesto delucidazioni in merito ai motivi che hanno determinato il ritardo nella procedura riguardante l'accesso alla Cassa in deroga. Non abbiamo capito se il problema che si è posto per 282 lavoratori sia stato un problema di burocrazia, di ritardo della burocrazia rispetto alla concessione, sia stato un problema di informatizzazione, un problema che non è ascrivibile alle procedure attivate dal Ministero e attivate dalla Regione. Ma l'assessore al lavoro Michele Petraroi ha ribadito che la Regione ha ottemperato i propri obblighi in materia e che è sotto gli occhi di tutti la stagnazione economica in cui versa il Molise, confermando in tal modo la validità della richiesta dell'area di crisi. Il governo deve far scaturire che quando si parla del Molise non si può fare un riparto in base al numero degli abitanti, perché noi con 300.000 abitanti è evidente che abbiamo un'attribuzione di risorse che rispetto ai 9 milioni della Lombardia è molto molto modesto. Noi lo dobbiamo fare in base alla quota percentuale dei lavoratori che sono stati licenziati, delle imprese che hanno chiuso e se da noi abbiamo soprattutto dipendenti di piccolissime imprese che non hanno diritto alla cassa ordinaria o straordinaria, ma solo alla disoccupazione, alla mobilità, il governo deve mettere a disposizione del Molise più soldi specie per questo tipo di settore. Il Molise è fuori dal piano Juncker, ritenuto e propagandato come uno strumento formidabile in materia di infrastrutture per la crescita dell'Europa e dell'Italia. A tal proposito l'ex governatore del Molise, Michele Iorio, in una nota stampa scrive Sarebbe assai grave per il nostro territorio mancare questo appuntamento anche perché il governo deve ancora indicare il cofinanziamento nazionale e noi rischiamo di rimanere al palo o di subire addirittura decurtazione rispetto a fondi già ottenuti. Sarebbe stato necessario richiedere il completamento del primo lotto Termoli-San Vittore, l'inserimento del porto di Termoli con l'Interporto e l'arretramento della ferrovia per il raddoppio del binario Termoli-Lesina, ha concluso il consigliere Iorio. In mattinata i segretari regionali di CGL e Will hanno incontrato la stampa per illustrare le ragioni e le modalità della giornata di mobilitazione indetta per il prossimo 12 dicembre. Sentiamo. Proclamato da CGL e Will per il prossimo 12 dicembre lo sciopero generale, una risposta a quella dei sindacati e alle politiche del governo centrale che stanno scaricando i costi della crisi sui lavoratori, pensionati, le nuove generazioni e la parte più debole del paese. Senza un radicale cambiamento delle politiche economiche e sociali del governo non si potranno rinnovare i contratti pubblici e non ci sarà una vera riforma delle pubbliche amministrazioni, come sottolineato dal segretario regionale della CGL, Sandro Del Fattore. Il governo sta assumendo decisioni che non sono in grado di contrastare la crisi, non sono in grado di riaprire una fase di crescita, di sviluppo e di lavoro per questo paese e sono misure che invece tendono a togliere diritti e tutele ai lavoratori dipendenti, a non estendere diritti e tuteli a quei tanti lavoratori e lavoratrici che oggi ne sono privi. C'è quindi bisogno di aprire una vera e propria grande vertenza con il governo nazionale sui temi del Mezzogiorno e del Molise. C'è bisogno di dare risposte anche alle tante vertenze aperte in questo territorio. Le risposte non possono essere protratte troppo a lungo, c'è bisogno di risposte in un arco di tempo il più breve possibile e c'è bisogno di risposte positive. Uno sciopero che coinvolge tutti i settori, dall'istruzione alle imprese e finalizzato a dare un segnale forte al governo centrale. Ma quanti assunti si potranno avere nel 2015 se non ci sono investimenti invece sulla ripresa di questo Paese, se non ci sono investimenti e finanziamenti privati e pubblici sull'industria, se non ci sono finanziamenti economici, se non c'è una riduzione delle tasse anche per il lavoratore, per i datori di lavoro. Beh, se tutto questo non avviene sicuramente non ci saranno posti di lavoro per cui non avrà dei grossi risultati tutto questo. Anzi, un peggioramento ulteriore sarà previsto invece per il Mezzogiorno d'Italia perché le risorse per l'IRAP e quindi anche per la decontribuzione saranno prese sulle risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno. Ci spostiamo ora a Termoli, dove presto sarà rinnovata l'illuminazione pubblica. Grazie ad una nuova convenzione, l'ente comunale basso molisano garantirà un servizio più efficiente e con un notevole risparmio energetico. Sentiamo. Dal 1 gennaio 2015 i termolesi avranno una nuova illuminazione pubblica e con notevoli vantaggi per i prossimi 15 anni. Risparmio energetico, abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, massima efficienza con interventi immediati per le riparazioni. Tutto questo grazie alla convenzione tra il comune di Termoli e nel Sole e l'Aeree di Paci, azienda molisana del settore energia. Un'intesa che permetterà alle casse della città un risparmio di circa il 41% sulla spesa elettrica, costo che è attualmente di circa 800 mila euro l'anno, escluso i costi di manutenzione dei vari impianti. L'accordo è stato presentato nella sala consigliare del comune di Termoli in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Angelo Sbrocca, il neodirigente a ramo lavori pubblici Matteo Caruso, l'architetto Silvestro Belpulsi, il responsabile di Enel Sole e Carmelo Larosa e il responsabile della ditta partner Eredi Paci, Gerardo. I lavori di rivisitazione di quasi tutti i corpi illuminanti e pali di Termoli cominceranno a gennaio e nell'arco di circa un anno saranno conclusi. Numerosi i vantaggi dell'accordo che tra i punti dell'appaldo prevedono la rivisitazione delle linee obsolete e fatiscenti, la messa in opera di nuovi pali e corpi illuminanti a norma di legge e a risparmio energetico, due telecamere di video sorveglianza, due spot wifi e l'implementazione dell'illuminazione della cinta muraria del borgo. Migliori artistiche inoltre ci saranno anche per la parte antica della città, con l'illuminazione notturna della cattedrale e quella della facciata del castello in occasione di eventi straordinari. Infine, non ultima delle novità, da gennaio i termolesi avranno anche un numero diretto da chiamare per ogni tipo di emergenza o segnalazione legata ai guasti della linea elettrica. Un po' di luce farà bene a tutti e quanto affermato il consigliere regionale in unse all'attanzio in merito alle polemiche sollevate sull'installazione delle luminarie natalizie nel capoluogo di regione. Il luminare Campobasso, ha sottolineato il consigliere, concorre a dare giusto respiro ai commercianti della città che con difficoltà hanno retto nel tempo alla compressione esercitata dalla grande distribuzione. Campobasso è una tra le città d'Italia nella quale la pressione fiscale è ai massimi livelli, ha continuato il consigliere, perché quindi rigettare una manovra che potrebbe consentire a molti di raccogliere il versato attraverso un flusso economico che passa per il ripopolamento. Esempio eloquente è Salerno che da anni ha scelto questa strada, investe e fa cassa collettiva, ha poi concluso il consigliere Lattanzio. Come anticipato nei giorni precedenti, è stato siglato ieri a Campobasso nel Palazzo del Governo l'accordo tra il sindaco Barbieri e il prefetto di Menna che disciplina le attività di accoglienza e di assistenza in favore di cittadini stranieri nel villaggio temporaneo in località Piana Quadrata. Il villaggio ospiterà 500 cittadini stranieri richiedenti asilo, presenza massima individuata per tutelare la dignità di tutte le persone che condividono questa esperienza e per preservare numericamente una dimensione umana nel rapporto migranti-popolazione locale. Dunque, nonostante l'opposizione di vari comitati territoriali come quello NOHAB, l'ex villaggio di San Giuliano di Puglia, sarà trasformato in centro d'accoglienza per i prossimi tre anni. L'Avis di Termoli, in occasione della quarta conferenza Progetto Scuola, ha organizzato un convegno dedicato ai giovani, un'iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti e incentivarli a diventare donatori di sangue. Il servizio. Manchi solo tu, questo è il nome della campagna di sensibilizzazione promossa a Termoli dal direttivo Avis, un'iniziativa quella portata avanti nella cittadina basso molisana per avvicinare i giovani alle problematiche legate alla donazione del sangue e all'importanza di entrare a far parte al più presto della grande famiglia Avis. Durante l'incontro sono stati premiati gli studenti del geometra che hanno partecipato al progetto Scuola nello scorso anno e che si sono distinti donando maggiormente rispetto ai propri colleghi. È un progetto che è iniziato da tanti anni, adesso lo stiamo portando avanti con diversi collaboratori, serve per avvicinare i giovani alla donazione e alla solidarietà. È un aspetto molto importante e abbiamo ottimi risultati in questo campo. I giovani per quanto riguarda l'Avis di Termoli sono il 27% dei donatori totali, speriamo di incentivare il numero dei giovani donatori perché senza la donazione del sangue le cure non possono essere effettuate e quindi i giovani sono il presente e il futuro. Diverse le iniziative che vedranno protagonista l'Avis in questo mese. Il prossimo convegno è il 13 dicembre sul femminicidio per continuare il nostro ideale di solidarietà che abbiamo iniziato quest'estate con la notte rossa e quindi grazie a degli interventi anche da parte di ospiti di fuoriregione proveremo a sensibilizzare su questa tematica. Punta sulla sensibilizzazione dei giovani il direttivo dell'Avis di Termoli che nello scorso anno si è distinto sul territorio nazionale come migliore federazione nel rapporto tra popolazione e numero di donazioni. Ed ora la cronaca, la folle moda americana del knockout game che consiste nel colpire a caso i passanti in strada con un colpo violento è arrivata anche nel capoluogo molisano. Nessun motivo alla base del gesto compiuto da due giovani incappucciati ai danni di una donna di 71 anni colpita al collo da un pugno mentre passeggiava in via Achille Grandi a Campobasso. L'anziana non ha potuto fornire molti particolari a carabinieri sulle tracce degli aggressori. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi ed è stata dimessa dopo aver ricevuto le cure dei medici in ospedale. Cambiamo adesso decisamente argomento. Il team molisano-vizzarri non ha deluso le aspettative aggiudicandosi meritatamente il primo premio nel concorso culinario a squadre svoltosi all'interno della manifestazione Expo Food & Wine tenutosi a Catania il servizio. Con un menù d'eccezione curato nei minimi dettagli e nella presentazione che ha saputo valorizzare i prodotti tipici della regione il team molisano-vizzarri ha vinto il concorso a squadre per il Sud organizzato dall'Associazione Provinciale Cuochi Etnei e dalla Federazione Italiana Cuochi. La gara culinaria si è svolta a Catania all'interno della tre giorni dedicata al buon cibo e al buon vino che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori centinaia di espositori, show cooking, degustazioni e la presenza di buyers esteri nonché gli interventi di relatori di fama nazionale e laboratori di cucina con chef stellati. Il team molisano composto dagli chef Oscar Antonio Scarano Vittorio Bosone, Giovanni D'Amore e Daniela Carissimo ha convinto tutti con un menù di tre portate lo starter a base di pesce dell'Adriatico abbinato a verdure di stagione un filetto di maiale impreziosito dal tartufo bianco e un trissa di dolci secondo classificato in medaglia d'argento per il team Basilicata medaglia di bronzo al team Cuochi Etnei una vetrina importante non solo per tutto il team ma per il Molise intero i suoi prodotti d'eccezione valorizzati dalla bravura e maestria di giovani chef Nell'ambito della settimana della legalità la Camera di Commercio di Isernia ha organizzato la manifestazione Io sono legale che ha visto la partecipazione del giornalista e conduttore del Tg1 Francesco Giorgino importanti spunti di riflessione per le imprese partecipanti sentiamo Io sono legale la manifestazione sul tema della legalità organizzata dalla Camera di Commercio di Isernia con il coordinamento del consulente Franco Avicolli ospite d'eccezione l'ancorman del Tg1 Francesco Giorgino che nel suo intervento ha descritto come sta cambiando il modello sociale e culturale nell'era contemporanea che i sociologi definiscono postmodernità coniugando quelle che possono essere le distorsioni o gli elementi di criticità di tale periodo storico con il tema della cultura della legalità Le distorsioni della postmodernità più importanti sono quelle di un eccesso di attenzione quindi di un'enfasi riservata al tempo del presente con una patologia che si chiama appunto presentismo e che schiaccia l'individuo più che la persona esclusivamente sulla logica della simultaneità questo diciamo non agevola la connotazione dell'essere umano in quanto io sociale in quanto predisposto alle relazioni sociali ed è forse la distorsione più importante che meglio e più delle altre spiega il perché si fa fatica a diffondere una cultura della legalità che per iniziativa di questa manifestazione viene coniugata semanticamente anche con la parola lealtà quindi con la parola coerenza Tre temi affrontati anche l'etica della responsabilità e il rispetto come valore troppo spesso sottovalutato nell'epoca postmoderna la mission dell'ente camerale quindi è quella di formare il tessuto imprenditoriale e la cultura della legalità attraverso il coinvolgimento di attori pubblici e privati presenti sull'intero territorio nazionale fornendo i giusti strumenti per districarsi nelle sfide del presente Si chiama Luana Lomma ed è Miss Mondo Molise la ragazza di Castel Mauro ha sbaragliato la concorrenza giudicandosi il titolo nella serata organizzata all'hotel Rinascimento vediamo Miss Mondo ha fatto tappa a Campobasso si sono tenute presso la sala Michelangelo dell'hotel Rinascimento infatti le selezioni regionali per il concorso che incoronerà la ragazza più bella del mondo le concorrenti provenienti da tutto il Molise dopo aver superato una preselezione sono arrivate alla serata finale finale che ha proclamato Miss Mondo Molise la ragazza con il numero 11 Luana Lomma di Castel Mauro che accede così di diritto alle finali nazionali in Puglia Si aggiudica il premio quindi la possibilità di partecipare alla finalissima regionale del concorso italiano di Miss Mondo Italia la ragazza contrassegnata dal numero 11 Luana Lomma Ad aggiudicarsi il secondo posto Melissa Iapalucci terza classificata Lucia Montagano una serata molto apprezzata testimoniata anche dalla grande presenza di pubblico che ha assistito alla sfilata delle Miss uno spettacolo di circa tre ore che ha visto sulla passerella non solo le ragazze ma anche le performance di cantanti artisti e corpi di ballo e una sfilata tutta maschile Apriamo la pagina sportiva in casa a Campobasso è il momento di ripartire dopo la brutta sconfitta con il Fano Mister Farina è rammaricato per la prestazione negativa ma invita tutti a lavorare meglio per evitare altri passi falsi sentiamo il Campobasso non ha mezze misure in questa stagione grandi prestazioni come quella con la sanbenedettese oppure alcune discutibili come l'ultima di domenica scorsa con il Fano molto amareggiato Mister Farina per la prestazione opaca dei suoi non ho potuto riproporre la squadra di San Benedetto perché mi sarebbe piaciuto riproporre la squadra di San Benedetto però abbiamo avuto un calo di concentrazione che secondo me si poteva evitare il primo responsabile sono sicuramente io adesso analizzeremo bene questa partita perché secondo me noi siamo una squadra che possiamo fare molto ma molto meglio e c'è anche da dire che ogni qualvolta dobbiamo fare quel passo in più non siamo pronti evidentemente ci manca qualcosa c'è bisogno soprattutto di concentrazione di ripartire con umiltà anche perché noi stiamo facendo un campionato buono secondo me fino a oggi e quindi adesso non ci dobbiamo come non ci siamo esaltati dopo San Benedetto almeno io adesso non ci dobbiamo abbattere dopo questa sconfitta dobbiamo unirci e dobbiamo migliorare anche perché dobbiamo giocare anche in casa con la cattiveria giusta perché talvolta siamo molto più cattivi fuori casa che in casa perché in casa si pensa che tutto sia facile invece noi siamo il campo basso qua le squadre vengono a giocarsi la partita però in questo momento mi preme dire una cosa importante chiedere scusa ai tifosi alla società per questo tipo di prestazione lo chiedo io a nome della mia squadra e cercare di lavorare lavorare e fare meglio ora è tempo di smaltire le tossine dopo la sconfitta a Casalinga con il Fano e lavorare al meglio per la prossima sfida di campionato novità in casa Castelmauro Giovanni Menna ha lasciato la guida tecnica della squadra il giorno della riapertura del mercato per motivi di lavoro l'allenatore ha comunicato nella serata di ieri la decisione alla società nelle prossime ore la dirigenza si metterà alla ricerca di un sostituto che siederà in panchina già dalla prossima sfida a Casalinga contro il Real San Martino intanto per rinforzare la rosa è stato preso il centrocampista Fabrizio Marsilio che torna così a vestire nuovamente la maglia bianco-rossa il Montenero è tornato alla vittoria contro il Ripalimosani ma la squadra stenta ancora sotto il profilo atletico per Rinaldi l'obiettivo resta quello della promozione in eccellenza il servizio La vittoria su Ripalimosani ha ridato ossigeno al Montenero dopo il periodo di appannaggio e il conseguente cambio di panchina la squadra è molto appesantita e non riesce ancora ad esprimere il proprio gioco ma nell'ambiente resta chiaro qual è l'obiettivo di questa stagione ovvero ritornare il prima possibile nel massimo campionato regionale questa è una considerazione che personalmente ho avuto modo già di chiarire all'inizio del campionato il Montenero vuole e desidera rientrare nel vertice del campionato regionale naturalmente come avevo già dichiarato dopo la prima partita bisognava affrontare un nuovo campionato bisognava verificare soprattutto le forze diciamo avversarie e naturalmente fare i conti con noi stessi perché se a volte ci si lascia un po' andare i risultati poi non non premiano e ci sono state appunto alcune flessioni che sono state eloquenti in tal senso domenica prossima avete una trasferta dovete continuare così magari crescere un po' domenica prossima andiamo a giocare contro la la prima in classifica quella che oggi il campionato dichiara essere la più la più forte la più in gamba per cui è evidente che in quella in quella partita dovremo dimostrare tutte le nostre qualità dovremo tirar fuori molto ma molto di più quindi a quel punto dopo quella partita potremo essere un attimino un po' più chiari i rosso-blu devono continuare così a partire dall'insidiosa trasferta sul campo della capolista campo di pietra ma prima di tutto bisogna crescere sia sotto l'aspetto atletico sia sotto la mole del gioco ancora insufficienti ed ora una notizia di volley femminile persiste la marcia inesorabile dell'europea 92 Isernia in testa la classifica del girone H del campionato di serie B2 femminile le Isernine sempre a punteggio pieno e con soli due set persi nelle sette giornate fin qui disputate si sono sbarazzate con 3 set a 0 anche del Salerno accreditato alla vigilia della gara come terza forza della graduatoria una gara senso unico dunque in quello che è stato il primo vero banco di prova della stagione ora c'è grande attesa per la prossima sfida di campionato delle Isernine che potrebbero confermarsi prima del previsto come leader indiscusse del campionato bene con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio ora alle previsioni del tempo arrivederci il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso previsioni del tempo per mercoledì 3 dicembre persiste il transito di una nuvolosità irregolare sul Molise seppur con bassa probabilità di precipitazioni ventilazione moderata dai quadranti sud orientali con mari generalmente mossi temperature in ulteriore diminuzione su tutti i settori sia nei valori massimi sia nei minimi vediamole nel dettaglio Campobasso minima 6 massima 13 gradi Isernia minima 9 massima 14 gradi Termoli minima 13 massima 16 gradi il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso prossima 14 gradi vi aspetta